Ok, partiamo Ovviamente è normale perché Qua dobbiamo solo scappare Quindi Finiamo male Contenere violenza, sangue, vabbè Io il primo l'ho finito Il primo Outlast Eppure tutti i DLC Ok Vestiamo i pagni del giornalista Investigativo Anzi se non ricordo male Questa giornalista finisce male Dobbiamo salvarla Comunque rispetto al primo Penso che è più Narrativa Questa non è Ho bisogno di ottenere la foto del hospital organizzata. Stai chiamando un nome di un'altra persona. Che? Nel tuo dormito? Jessica, credo. Tu conosci una Jessica? Oh, no, no. Cioè... Sto trattando con Jessica Gray, da quando eravamo figli. Oh, sì. Ho avuto un po' di anni di tempo. Ehi, stiamo passando in una zona di reservazione ora. Stai guardando per un'altra fabbrica? Sì. Possiamo guardare, ma non c'è nulla qui. Allora qui. Ci sembra abbastanza semplice. Tutto il mercurio in quella madre? Ha dovuto aver spento almeno una decada di strada, da alcune industrie abbastanza pesante. Se lo dici, ragazzi, hai comprato il tempo. Dobbiamo registrare un'intro mentre siamo qui. Il valore di produzione? Sì. Non posso lavorare da un'altra persona? No. 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 Questa videocamera. F***. F***. Scusa di questo. Il mio panel è un po' troppo, ma... Siamo bene. Oh, è stato incontro. Prendi tanto del luogo dietro a me che puoi. Hai capito? Sì. Oh, oh. 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 E' un po' tanto. Ah, ricordi che c'è, di già. C'è un magazzionista? ciao perché solo dal titolo si capisce tutto di sto gioco poi c'è al contrario ora è girata la coscia assurdo aspetta un secondo, vediamo come è combinato qua vabbè mi gira a 74 fps quindi direi che è abbastanza buono se scatta abbasso un po' è buonanotte fatemi sapere se l'audio è a posto picciotti questi chi sono? ahahah mamma mia chi è questo? sono le sei e cinque ma ovviamente sono mezzanotte minchia questa la fluidità è troppo alta forse vabbè aspettate un secondo che troppo fosse troppo alta un pochino da passiamo ok ah c'è cambia slot di salvatare vabbè non ci interessa 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 o no non ci interessa perché era svenuto non ci interessa Non mi ricordavo questa parte, perché era bloccato nella partenza. Ecco la videopamera. Vai, va a filmare tutte cose. L'unica cosa che può fare è filmare queste. Non è che c'è l'alternativa. Un coltellino, non c'è niente. Almeno, non so se... Ma dovrebbe essere così solo videopamera. Trovare Lynn. Niente importa ma Lynn. Trovare Lynn. No, non mi interessa il materiale girato. Chi sa cosa c'è in questa videocamera, cosa ha girato, cosa sconce. Lasciamo stare. Oh, qua si muove meglio questo. Altro che Arthur. E c'è qua? Perchè, Arthur già fosse da sotto. Ok. L'indicatore lampeggia, vediamo la... Quando l'indicatore racchia... Ah, lampeggia, ok. È un registro lui, eh. Oh, p***a. E poi ci fa un film con tutto questo baratan. Se rimane vivo, propriamente. Allora, batteria. Queste batterie diciamo che sono... Pure nel primo cielo, ovviamente. Cioè, non si trovano ormi. Sono tanto batterie in sto gioco. Oh, p***a me! P***o, 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 p***o! Oh, p***o, 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 p***o! Questo... ...ismasmente fatto nel fallo. P***o questo... ...lin? ok che cazzo che cazzo assolutamente che cazzo non ce solo sai mai sono proprio un cameraman un provetto questo che cosa riprende però dai si vedono pure le gambe qui, nel 2 non mi sbaglio ma cosi vedere e per quello che ho capito questa cazzo peduttrice sta facendo un gioco cooperativo però non si è sentito più parlare di questo gioco non ho visto più notizie mi so che si chiama trinity, una storia del genere oh ma senza videocamera si vede meglio ma che cazzo è quando possiamo la leviamo perché vedrai se no me ne giro la testa ok ce n'è il cavalli no siamo sono ferito sono ferito mi ricordo da fatta a frame non lo conosco ma ci avete giocato a sto gioco non dico finito io mi penso che lo conoscete c'è qualcuno da qui c'è qualche jumpscare sicuramente ma forse è più avanti che stai vincendo queste cose mi fanno proprio scantare oh cazzo oh cazzo oh cazzo tu sei è troppo alta la sensibilità abbassiamo un altro poco mostro sottotitoli mostro suggerimenti ok non è messo è giusto o no ok è a posto dovrebbe cercare qua offerte cosa ho visto qualche gameplay però beh forse giocali in compagnia rende non lo so rende di più cioè c'è più voglia di guardarli che cazzo è non l'ho fatto io sto rumore c'era qualcuno dentro faceva passare guarda qualche batteria qualcosa innanzitutto come si fa a cambiare ah ok batteria usa batteria usa benda ah benda serve per ma cosa però diceva questa benda serve per curarci nell'uno non c'era comunque per l'uno tu ti ferivano e morivi male cioè ancora me lo ricordo come se fosse ieri quel gioco dall'uno c'era una besta enorme che ti inseguiva assurdo dunque è da riprendere anche l'uno cazzo è animali andati a male ah se non mi ricordo pure si può spero nascondere il fatto è una videocamera è prova d'acqua si può pure immergere sarà una videocamera buona che c'è qua scarica chi è il bruttavoce 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 chiudiamo su non è come freddo chi chiudi la barca completamente no caro padre non sto amato tu continua non cedo e mi visioni ora sono che il nemico è il gioco è precisissimo eh per quello che mi ricordo c'è questo padre un po' pazzarello questo qua che è a capo di questa combricola di pazzi sono tutti un po' impazziti questo gioco quello che mi ricordo non che nel primo era no non sia normale però che cazzo è che inquietante fattoria riprendi riprendi no non me ne frega niente di vedere le cose già riprese no che è f***o 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 che iniziamo bene che iniziamo bene solo con i corvi facciamo così non so come lo state sentendo con le cuffie voi ma la micchia non si può così che cazzo è non siamo noi facciamo rumore non siamo nasconderti se si è nasconderti ok c'è basta c'è basta ammaccare il tasto per abbassarsi striscia solo che cazzo che cazzo si però non si vede niente mi sa tanto per ora dobbiamo utilizzarla brutto rimanere senza batteri questo gioco lo so lo so è come lo so è tutta pena di croce sta p***o sta p***o non so che vuol dire ma ancora lo sa lui inimical die hai video dici che dobbiamo rivedere vabbè ci sono cose già viste vabbè è quello che abbiamo diciamo fatto no quello che abbiamo ripreso c'è per ora fino a ora il ricordatore dei punti no niente non c'è niente non ci sono filmati diciamo passati la storia di Jane Jane 2 parte 1 parte 2 la città impossibile vabbè quello che abbiamo ripreso prima non c'è niente non c'è niente per mille il vento è dilatato una bella poesia qua è rinno o l'è rinno cosa che faccio no Mosca? E questo cos'è? Ah, il microfono. Ok. Ah, con F si mettono le luci feroce. Ok. Ah, adesso mi ricordo pure io a questa parte. C'è la croce. Bambini morti. Ok. Se spari. Assurdo. Eh, non si riesce a vedere. Tanto penso che comunque la luminosità è messa a buona. Non è che... Si deve aumentare la luminosità. Mi sento ancora che non hai visto niente, spicchio. E nemmeno io. Eh, se non ricordo male c'è qualcosa in faccia di questa qua ora. Fanculo. Come cazzo facciamo? No, non ho batteria. Che aspetta che ce n'è una qua. Che è proprio qui eh? Mi devo prendere premuto per ricaricare. Ma se giro dall'altra parte scusami. Ma perché devo fare questa fine? Reggiriamola. No, è ancora più avanti. Ci siamo morti. Due colpi. E che cazzo devo mettere fuori? È difficile. Non ci dobbiamo proprio vedere. Beh, non ci dobbiamo vedere se intanto. Stava proprio andando a scappare Ma che cazzo è Almeno abbiamo la batteria Piena Porco cane Ma veramente che cazzo è Che è lungo a 2 metri P.C.T.O. Il terrore è di non so Dei mostri di più lunghi Non lo so E' una cosa mia Questi alti Così fanno proprio Un cazzo di paura Ho giocato pure a P.T. E c'era quella alta a 2 metri Mamma mia Porca di quella puttana Minchia corriamo Corriamo Cazzo Porca puttana Oh ma che sta facendo Ciao Ci stavo andando di nuovo Che siete alti Ma io intendo alti e brutti Non che sono proprio basso Sono un metro e 73 Quasi 74 Ma che cazzo No dai Capito l'8 E la tua gente ha portato la guerra All'intorno di mio figlio La mia terra Vasta comunque Sono Ezekiel Vabbè comunque Si stanno inventando un po' Loro De la religione Questi qua A modo loro E' visto che c'è la tua ragazza Che ti difende Arturo Era morto Ah Sto per gli occhiali C'è la tua ragazza Ma che brutta Stanno avendo stato in all'aria Questo qua Cioè si è messi gli occhiali E proprio ci spunto chies Davanti Non c'è niente No 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 Dicami mica di casa No Non potrei stare senza Senza luce Più che altro Sto per gli occhiali Ora noi, e dovremmo essere tornati. Sì. andiamo che cosa è? non c'è un po' che c'è non riesco a badare vuole fare una bruttasina no di nuovo no 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 spettiam no stessa shen ecco vai via batteria il 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 Samson ha detto che l'Eater veniva avendo l'Eater e l'Eater veniva avendo avendo l'Eater. Ti quasi nasconde. No, non lo so, non lo so. Non lo so, non lo so. Se Voi volentieri. Non ci credo niente. C'è un po' più chiamata. C'è un po' più chiamata. C'è un po' questa cosa? Minchia, per poco, per pochissima. Aspettiamo un secondo qua. Ciao! Ciao! Cosa. Erra! Cosa, per favore! Cosa, per favore! Certamente, per favore! Cosa, per favore! I sopra mi stavano guardando Che stai aumentando in chiesa? Si vuole convertire pure lui Stiamo in oposizione dell'antichristo Se speriamo di farlo Non possiamo solo provare a essere come Gesù Dobbiamo essere come Dio Dio ci ha messo questo Cosa 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 Temo Cosa 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 Stavano Cosa Questa Questa Intezzate Se tu vieni, la tua vita è qui ora, vieni a casa! Mi sento io fino a qui ma lo ricordo E dopo proprio questa parte Che non ci ho più giocato Vabbè, altro Vangelo, altre... Facciamo di andare a liberare le linee il più possibile, il meno facilmente possibile Che stanno plegando? Che stanno facendo? No, non ho batterie, è ottimo Brutto Voi, è io, che devo dire? Non so se avete visto questa parte Mettetevi le cuffie, mettete le cuffie, poi vi fate sapere Tutti i miei pezzi si fanno fuori Un forte piccolo paolo Io amo questo paolo Mi piace Paolo, so che è Papa Papa No, ti dò scogliato Direi che sto occupando Papa si fa Si fa chiamare Papa Mi dite i suoi dinaroni Vale, mi ha fatto una proposta molto ambigua Dal suo atteggiamento intuito che si trattava di un'offerta serena di natura sessuale Per cui conosco Vai alla sua relazione Mi sono spaventato e non accettato il mio invito Vale, si è rifiutato di far niente respirazione mia Mamma mia Eh, si, perché ora gli succede qualcosa questa qui Dalla giornalista, non so se voi l'avete visto Ora lo vedrete Comunque questa cosa che ha se abbasso il volume del microfono Cioè delle, delle puffie Si abbassa anche a voi Oh no Per esempio così tutto L'ho proprio levato il micro, l'audio Così l'ho alzato Ah ok, perfetto Allora non c'entra niente No, eh, però No, eh, però In effettivamente, dov'è passare anche a voi In effetti, dov'è passare anche a voi Ah, dobbiamo prendere la chiave Ah, dobbiamo prendere la chiave Ah, la mia fe Dio, sei un po' di amici Ma io, devo Ok Ok Giava, giava, giava Dov'è? Ah Ecco Questa lo sapevo E poi arriva questo Infatti pure con l'audio alto Non mi ha fatto Granché Superata questa chiesa Non so più niente Ok Ciao Edo Ci sei anche tu? Ti unisci anche tu a noi Figurifare non si può aprire Sa tanto che l'antagonista principale è lui E' proprio questo Papa Questo quasi può proprio Nominare Papa Gli armadi non si vengono a nascondersi Come va? Guarda tu stesso come sta andando Dovevo andare su Red Redemption Però non si avviava il gioco Sto lancer di merda di Rockstar E siamo passati a Outlast Lo dovevo portare su YouTube Ma pazienza Dico Lo carico La live la carico poi lì Ah Dovevo muovere indietro Proprio lentamente Ok Ma come l'avevo detto prima Chiuso Chiuso Che basta Mi devo buttare pure io Che atletico Oh Dio Blake Sei ok? No Che f***o? Non lo so Oh f***o Vi vediamo Ehi Ce l'hanno visto Scappiamo E lei Sto a te la camera Possiamo levare Lynn No Where are we going? Away from here Anywhere from here Eh non lo so Puoi stare qui Eh man e manine Viste Ah Oh Dio What is it? Ora capirete Ora capirete che gli è successo It hurts Something's wrong F***o I have to stop I just I need help Oh Dio Jesus Christ Lynn What's happening here? I thought you were dead When you fell Oh we were all dead It's okay I'm here We're gonna get out Okay God What did they do to you? I can't talk about it Please don't ask me Please don't ask me Please don't ask me Please don't ask me After all these years They're coming They're coming They're coming They're coming I'm afraid we have been proven What? I perform I don't know He's insane They're all f***ing insane Please Blake I just want to get out of here Fate She is afraid of us What the f*** is going on? I can't I can't Not now Let's just get away from this place Dice Ho detto bene Esaminata L'ha esaminata Non l'ha inseminata Lui Come la èESTTA qui Incinta così Era già da prima Lo era Eccoli Si vede niente C'è l'occhietta! Non! 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 C'è l'occhietta! Lynn! Voi! Voi! Lynn! Lynn! Non! 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 Voi! 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 Lynn! Voi! 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 Per esempio questi non ho capito chi sono! Sono proprio dei mostri! Voi! Voi! Ho guardato il mio padre f***are il tuo Dio alla morte! No! Voi! 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 A' Voi! Voi! Ero a casa. Ero a casa. Mi sono sicuro che non sia il padre. Mottra! Adesso ti amo. Non come io. ok yes we have i think i'll see you again non c'è un masque non c'è un masque non c'è un masque c'è un masque Gesù, Gesù, Gioo che fuori? i heretics hanno chiamato la madre non è solo un culto sono due strati cristiani è qualcosa di altro sono proprio cristiani sono satanisti contro monstri non c'è, non c'è non c'è Non c'è niente qua Cazzo ma che ho fatto? Nooo ma come si fa? Non è nemmeno si show Nooo Vaffanculo Puriamoci Vediamoci Non l'ho capito non strisciava Va davanti E non... Non entra dentro Che cazzo è? Non striscia sotto sto fango Vaffanculo sta arrivando Cioè mi sta prendendo per il culo questo Vaffanculo Vaffanculo Puoi nascondere si show tutti i letti Così si gira Ma probabilmente Ma nemmeno in quelle Infatti quella mi ha incrociata Prima Vaffanculo 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 no no di nuovo con la tromba ma che siamo? di nuovo con la scuola 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 e di Lynn quando siamo di nuovo con la scuola di nuovo con la scuola di nuovo con la scuola e mi pensavo di nuovo con la scuola di Lynn di Jessica c'è quello che c'è dovrebbe essere l'aria dovrebbe essere l'aria l'aria se non c'è l'aria c'è questo ci andiamo a sosso dai questo non lo faceva scopantare c'è come correre no? usciamo? assa ci vuote fare scuola già scappò che abbiamo? grazie scappò sempre i suoi occhiali per esempio chi è questo? l'oltre ho visto che ci ha ucciso non pensi no ah siamo ritornati noi vado a farlo se si trovano qui vado